Buongiorno, eccoci sul TR della Leonardo per le operazioni emergenza Covid. Siamo orgogliosi di essere di questa azienda, di essere italiani, di far parte e di aiutare per questa grossa emergenza. Facciamo quello che riusciamo. Ecco qua, siamo nel cockpit, ci stiamo preparando per portare il carico che abbiamo appena imbarcato a Malpensa verso il sud, verso Puglia e Calabria quest'oggi, come vedete siamo assolutamente a pieno carico. Adesso i loadmaster con un lavoro egregio stanno fermando e sanificando tutto il carico e poi si parte. Eccoci qua, piloti, loadmaster, specialisti, copertori delle sale operative, tutta Leonardo con i suoi mezzi migliori, a TRC27J al servizio della protezione civile. Abbiamo affidato i nostri mezzi migliori, i nostri uomini migliori per questa emergenza. Siamo orgogliosi e cerchiamo di fare il possibile. Oggi siamo alla Mezzia, qua con la TR, abbiamo caricato a Malpensa, siamo passati a Bari e il loadmaster 27 è nelle isole, è piccola e Sardegna. Ce la faremo. Sardegna Sardegna Sardegna